Santi non si nasce, è Dio che santifica, cioè trasforma noi col suo amore. E la santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, altrimenti, dice Francesco, c'è grande incoerenza. Io sono cristiano, Dio è santo, ma io faccio tante cose brutte. No, questo non serve, questo anche fa male, questo scandalizza. Udienza del mercoledì sul Padre Nostro. Sia santificato il tuo nome è la prima delle sette invocazioni di questa preghiera che con la sua semplicità ed essenzialità, il Papa spiega, educa l'orante a non moltiplicare parole vane. Dio è come quelle mamme a cui basta uno sguardo per capire tutto dai figli, se sono contenti o tristi, se sono sinceri o nascondano qualcosa. Col Padre Nostro chiediamo una più grande diffusione della santità in noi e nel mondo, che la vita sia un inno di lodi alla grandezza di Dio, conclude il Papa, impegno sulla via della santità affinché anche gli altri glorifichino il suo santo nome.